Ora, questo, come vi ho detto, è secondo me l'affare, il momento più conveniente che si possa fare per entrare nel mondo Apple. Manuel, perché non hai parlato dei nuovi Mac? Beh, aspettavo di averli e allora eccoli qui. Ho la possibilità di provare in anteprima Mac Mini con chip M2 e il nuovo MacBook Pro con chip M2 Pro. Due prodotti appena lanciati da Apple che finiranno sulla mia scrivania in due setup differenti. In questo video cercheremo un attimino di capire cosa può servire a chi e se il titolo non è assolutamente clickbait, Apple ha davvero abbassato i prezzi, non di tutto ovviamente, ma vi spiegherò tutto più nel dettaglio nel corso del video. Nel frattempo se volete lasciare un like è sempre ben accetto, siccome qui ho un sacco di roba direi di partire assolutamente dal Mac Mini. Wow, eccolo qui, sono sempre affezionato al Mac Mini. Per me è un pezzettino di storia personale perché lui è la porta di accesso al mondo Apple più economica che ci sia e in effetti è stato il mio primo Mac perché non avevo altri soldi da spendere. Quindi all'epoca compra il primo Mac Mini, quello ancora con lo slot CD. Quindi ci sono parecchio affezionato a questo computer, ne ho avuti diversi nel corso degli anni e guarda caso Apple non solo continua a farne una nuova versione, ma in questo caso ne fa il Mac in assoluto più economico che ci sia e ha abbassato il prezzo. Allora iniziamo col dire che ne esistono due versioni, questa che è la versione M2, insomma quella base, e poi c'è una versione col chip M2 Pro, con differenza di prezzo importante parliamo più del doppio. Più del doppio vi dicevo di un prezzo che è assolutamente il più basso attualmente possibile per entrare nel mondo dei Mac, ma che è stato ribassato perché io avevo comprato il primo Mac Mini con chip M1 pagandolo 899 euro. Questo signori costa 729 euro, quindi non è vero che tutti i prezzi sono saliti, questo casualmente è stato ribassato ed è secondo me un'occasione unica per entrare nel mondo Apple spendendo davvero poco e avendo l'ultimo processore, che se possibile secondo me dovrebbe andare ancora meglio rispetto all'M2 sul MacBook Air, quello che abbiamo visto qualche mese fa, perché qui all'interno del Mini come sapete c'è un sistema di dissipazione che da sempre è sicuramente più efficiente rispetto a quello che ci può essere sul MacBook soprattutto nella versione Air. Esteticamente non è assolutamente cambiato, il formfactor è lo stesso, le dimensioni sono le stesse, quindi se avete già accessori per il vecchio Mac Mini funzioneranno tranquillamente. Qui dietro abbiamo due porte Thunderbolt 4, un HDMI, due USB standard, jack per le cuffie, gigabit Ethernet a 10 GB e ovviamente l'alimentazione oltre che come vedete la reazione per la dissipazione. Rispetto al modello con M2 Pro non ci sono grandi differenze se non che quello ha quattro porte Thunderbolt 4. Ora, questo come vi ho detto è secondo me l'affare al momento più conveniente che si possa fare per entrare nel mondo Apple ed è un computer affisso, quindi va creato un setup perché a questo prezzo dovete poi aggiungere un monitor, mouse e tastiera. In questo caso io ho tutto quello che Apple attualmente può offrire di meglio, una Magic Keyboard col Touch ID, un Magic Trackpad e un Magic Mouse. Quindi ci trasferiamo un attimo alla scrivania, vi faccio vedere un setup che faccio al volo col mio studio display. Vedete perché amo tanto il Mac Mini? Tac, due cavi praticamente, l'alimentazione è quello che va al monitor e il setup è pronto. Ora, questo è un setup ricavato più o meno da quello che già avevo, studio display, poi ci ho aggiunto trackpad, nuova Magic Keyboard con tastierino e Touch ID e Magic Mouse. Secondo me è un setup naturalmente molto molto figo da avere, però forse sempre in ottica di contenimento dei costi è un pochino overkill, soprattutto il monitor, cioè andate a risparmiare su Mac Mini e poi spendete 1800 euro di monitor. Insomma, se già lo avete, ok, ci siamo capiti, ma per acquistarlo secondo me ci sono delle alternative decisamente più economiche che vi porterò qui sul canale. La stessa cosa vale per mouse, trackpad e tastiera, bellissime, se volete acquistarle, straconsigliate, io le adoro e poi anche se cambiate computer, insomma, queste vi rimangono, quindi non c'è alcun problema da quel punto di vista, ma se volete invece acquistarle da nuovo e risparmiare, anche qui ci sono delle alternative decisamente più economiche. Comunque setup fatto, guardate che bellezza, la pulizia della scrivania, la comodità di avere praticamente zero cavi che girano e un computer desktop molto molto potente secondo me per poter lavorare praticamente in qualsiasi ambito fuori da quelli ultra professionali. Insomma, sostanzialmente questo Mac Mini 2 è un'opportunità unica secondo me e io lo consiglierei praticamente a tutti, tutti coloro che hanno bisogno di un computer fisso con prestazioni ottime per fare praticamente il 95, 96, 97% delle operazioni quotidiane sprendendo il minimo possibile. Se invece siete in quella piccola parte di popolazione che ha bisogno di una macchina davvero importante per lavorare e per lavorare in mobilità, eccolo qui, questo è il nuovo MacBook con chip M2 Pro, esiste anche la versione con chip M2 Max, sia nella versione 14 che 16 in diverse colorazioni. Questo non lo specifico è la versione da 16 pollici con chip M2 Pro, versione grigio siderale. Cosa cambia rispetto al primo modello col chip M1 Pro che tra il resto io possiedo come macchina principale per il mio lavoro? Poche cose perché a livello estetico è praticamente identico al precedente ed è una cosa assolutamente comprensibile ma anche apprezzata dal mio punto di vista di consumatore, intanto perché il design era freschissimo ma soprattutto perché si va meno a svalutare le vecchie versioni che dal punto di vista del design appunto sono uguali al nuovo modello. Cambiano piccoli particolari, comunque trascurabili e che su questa colorazione non riesco a farvi vedere ma che riguardano il cavo MagSafe, novità del precedente modello ma che in questo caso verrà fornito in colorazione abbinata al computer quindi non più solo in versione bianca su tutti i modelli ma sarà abbinato appunto al grigio siderale se sceglierete quel modello. Ora è una macchina magnifica questa dal punto di vista delle dimensioni, del display, ho grande esperienza per quello che riguarda appunto il MacBook Pro perché appunto lo possiedo, come vi dicevo a livello di design non cambia tanto, quello che cambia naturalmente è ciò che c'è all'interno, il nuovo processore M2 Pro che promette naturalmente una potenza più elevata dal punto di vista delle performance. Se ne sente il bisogno? Beh insomma io non ne sento il bisogno perché la mia macchina con M1 Pro va ancora alla grandissima ma è naturale che nell'evoluzione tecnologica sia importante che si vada avanti nelle performance e quindi chi deve acquistare una macchina nuova oggi è bene secondo me che comunque vada sulla M2 Pro piuttosto che sulla M1 Pro che comunque è stato tolto dalla linea di vendita Apple anche se sicuramente si troveranno delle possibilità di acquisto su altri canali. È evidente che questa è una macchina assolutamente indicata però per chi deve fare lavori piuttosto pesanti, video editing, foto editing, modellazione 3D, programmazione ad alto livello, è una macchina dal prezzo decisamente più importante rispetto anche al Mac Mini con lo stesso processore, parliamo di più di 1000€ di differenza in questo caso il prezzo purtroppo non è diminuito ma è aumentato rispetto alla prima versione ma dobbiamo fare un ragionamento diverso per questo tipo di MacBook rispetto al Mac Mini che invece è diminuito. diciamo che questa è una macchina da lavoro, io ad esempio l'acquisto per lavoro quindi l'acquisto come spesa di lavoro e per me la spesa di lavoro è sempre giustificata se mi permette di lavorare meglio ma soprattutto di risparmiare tempo quindi magari spendere 2 o 3 mila euro per un mezzo di lavoro importante, uno dei più importanti nel mio lavoro che mi permetta di lavorare al meglio, beh è una spesa sicuramente giustificata, tra l'altro è una spesa che si può poi scaricare dalle tasse c'è l'iva che si può andare a risparmiare, insomma se lo comprate come professionisti o come azienda è sicuramente meno impattante il rincaro del prezzo ed è comunque una macchina che non costa un'enormità per chi lavora, attenzione. è naturale che se invece la prendete come hobby, beh magari spendere dai 2, 5 e anche 4 mila euro per una macchina del genere allora si diventa una cifra importante e forse anche difficile da giustificare per quello che effettivamente questa macchina vi può offrire questa è una macchina professionale. per quello io vi dico se non dovete fare qualcosa di professionale ci sono le alternative, l'M2 normale è assolutamente ben dimensionato dal punto di vista delle prestazioni per farvi fare praticamente qualsiasi cosa. Spero davvero che abbiate apprezzato questa succosa anteprima, naturalmente è tutto possibile grazie al vostro supporto se volete continuare a supportarmi sapete già come fare, like, iscrizione al canale mentre qui sotto nei commenti vi aspetto per tutte le domande relative a queste due nuove macchine di Apple nelle quali magari vi risponderò nei video di approfondimento che arriveranno nei prossimi giorni mi raccomando non lesinate di domande, proverò a rispondere a tutti quanti sia sotto che nei prossimi video grazie da Manolo Agostini e noi ci vediamo per un prossimo video sempre qui sul mio canale YouTube